Gli atti pubblici di ubriachezza e indecenza saranno tollerati entro certi limiti e solo nei giorni di festa. I santi possono anche gradire il vostro fervore, ma il consiglio no. E ricorda agli artigiani che non sono potuti a matemarie pesanti di usare, se possibile, i limiti e solo nei giorni di festa. I santi possono anche gradire il vostro fervore come danni servisti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.